Beatrix, applaudi! Sì, io non ho niente da dire, non ho niente da dire. Dopo un'esterna del genere, hai visto che ieri hai criticato il comportamento di lei, che non ha avuto nessuna reazione. Me l'aspettavo perché lei è così, o si chiude a riccio… La vera dimostrazione di interesse… La reazione c'è, è visibile la reazione, nel senso… Io so già cosa fare Tina, ok, so già cosa fare. Fammi indovinare, ti elimini, questa è la reazione. Indovino, non lo so. Ti chiedo, chi è la scelta? Hai una preferenza? A me hai detto di sì in centro studio, davanti a tutti, insieme anche a lei, e poi l'hai detto anche a me in esterna, dopo che l'hai organizzata. Hai una preferenza? Hai una preferenza? È una domanda, Brando? È una domanda? No. Perfetto. A me aveva detto sì, mi sento presa per… No, rimani lì e adesso io me ne vado a Milano. Grazie Maria e grazie per avermi compresa, nonostante tutto. Sì, per stare qua domani, capito? Grazie mille. Sì. Sono r tracing... Mi è veramente spesso da pudic supreme, bisogna absolvi...